Se vado da Meccanica Melegari con questo pezzo so che me lo fa bene. Mi ricordo sì perché prima di andare in ufficio a fare dell'archivio ho contato anche qualche castone di pezzi. Fare parte dell'azienda di famiglia è un po' come un mandato e quindi San Manpolio ho sempre vissuta l'azienda. Sono Giulia, è Giulia Melegari, quindi sono parte della famiglia, la terza generazione. L'azienda oggi si presenta trasformata con un parco macchine estremamente moderno. Tra le 500 figure che lavoriamo in Meccanica Melegari abbiamo diversi stampati in acciaio. Una delle figure più frequenti sono i manicotti di innesto frizione. Questo ci ha spinto all'acquisto della Metrios Cross che ci consente di controllare in meno di 32 secondi la concentricità dei diametri di tornitura, la dimensione dei fori di piantaggio perno che devono tutti rispettare un parallelismo di un decimo di tolleranza. E quindi l'esigenza di controllare periodicamente questo pezzo, Metrios si prestava perfettamente a questa nostra esigenza. Sono Francesco Melegari, responsabile di produzione in Meccanica Melegari dal 2003 e responsabile del sistema di gestione qualità ISO 9001-2015. Rappresento insieme a mia sorella e mia cugina la terza generazione della nostra attività. Mi chiamo Elisabetta e sono un'operatrice macchine utensili. In questo momento sto lavorando questo pezzo. Questo qui è specifico per la rullatura. Faccio 15-20 pezzi, lo controllo da sola. E poi è importante che le sfere siano perfette. L'utilizzo di queste macchine è immediato e semplicissimo per tutti gli operatori. Quindi non solo produrre ma anche controllare il loro operato. Questo permette a loro di capire quando è il momento di sostituire gli inserti o di variare i parametri di lavorazione in macchina. Con Vici Vision e M609 riesco a controllare in meno di 10 secondi l'interesse tra le sfere, tutti i diametri della sfera e i diametri delle parti cilindriche. Un nonno in abito, sempre. In cravatta, anche qui in azienda, un nonno che quando arrivava sentivi la sua presenza, altro che se la sentivi. Mi chiamavi in officina a lavorare. Siamo passati ai CNC più moderni e controllati attualmente in rete e interconnessi con il sistema operativo dell'azienda. Accanto a questo dal 2007 abbiamo sviluppato una collaborazione con il settore del movimento terra. Siamo entrati nel settore degli anelli sincronizzatori che sono installati sui cambi differenziali degli autocarbi. Recentemente, negli ultimi due anni, abbiamo investito molto in automazione e nel controllo in qualità di produzione. Considero la meccanica melegari come un bene personale. Sono Simone Crema, sono in meccanica melegari da 30 anni e mi occupo del sistema qualità, del controllo qualità da 25. In questo momento la concorrenza è spietata e noi riusciamo con gli investimenti che abbiamo fatto sulle macchine, il personale. Perché ogni operatore, in base al pezzo che lavora, ha una sua frequenza di controllo. Su Metrios appoggiamo il pezzo sul piano di lavoro. Una ventina di secondi, l'operatore, in modo autonomo sulla macchina, riesce a tenere anche sotto controllo tutto il processo. Continueremo a puntare su questa cosa, a puntare sulla qualità e sul nostro Made in Italy. Grazie a tutti i nostri spettatori,